Consiglio regionale oggi all'Aquila è incentrato prevalentemente sul tema sanitario ma un aspetto di fondamentale importanza rimane quello dei ristori a famiglie di imprese che si ritrovano con la zona rossa costretti a chiudere anche se l'emergenza arriva già dal primo lockdown. La regione non ha contributi a pioggia ma con le rimodulazioni, sostiene il vicepresidente Emanuele Imprudente, si proverà a sostenere anche le categorie che hanno necessità. Noi abbiamo fatto una rimodulazione di tutti i fondi che avevamo ancora a disposizione, cioè dei fondi comunitari e degli FSC. Con questa rimodulazione noi stiamo coprendo e quindi soldi ci sono ma non erano in cassa immediatamente ma l'abbiamo sempre detto, stiamo coprendo quelle che sono le leggi che abbiamo fatto che vanno incontro alle varie esigenze delle partite IVA, delle attività e del mondo produttivo abruzzese e sociale. Questo diluire anche la messa a disposizione delle risorse serve ad intervenire ad arrivare nei momenti più critici. Chiaramente ciò che arriverà in più, che si libereranno nuove risorse, ci sarà la possibilità di rimodulare nuove disponibilità, andremo a colpire anche quelle categorie che restano fuori da tutti quanti i ragionamenti. All'interno dei lavori del Consiglio anche l'interpellanza dell'altro vicepresidente Domenico Pettinari sul fondo perduto. I ritardi sono notevoli, dice una famiglia e imprese, hanno bisogno subito di sostegni. Purtroppo ad oggi delle 54 mila imprese che hanno presentato domanda sulla piattaforma ne hanno ricevuto solo 85 barra 90. Quindi potete immaginare quanto tempo servirà ancora per pagare il fondo perduto approvato 6-7 mesi fa. Ora subito, adesso che ci sarà purtroppo un'altra zona rossa, servono fondi immediati, ma subito, quindi il Regione Abruzzo deve approvare in emergenza, a mio avviso, provvedimenti urgenti ed emergenziali per pompare denaro fresco a tutte le piccole e medie imprese, partite IVA, professionisti, commercio, settore turismo e quant'altro. Purtroppo debbo constatare che il ritardo che ci portiamo dietro è enorme. Per il capogruppo del PD Silvio Palucci è essenziale anche rispettare le promesse ed essere chiari nella comunicazione, cosa che a suo giudizio finora non è stata, vedi, zona rossa. C'è adesso in itinere la sessione di bilancio che comincerà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Noi vogliamo essere disponibili a qualsiasi tipo di confronto, evitare qualsiasi tipo di ostruzionismo, però come abbiamo già denunciato sul cura Abruzzo 1 e 2, bisogna essere seri. Le risorse che si promettono, gli impegni che si portano avanti devono poi essere davvero mantenuti e debbono essere le risorse dentro le tasche dei cittadini, come è giusto che sia. Se non avverrà questo noi faremo battaglia e daremo battaglia come già abbiamo fatto per altre situazioni, quali la questione dei vaccini, dell'influenza che non arrivano o la questione, per quanto ci riguarda, vergognosa del debito fuori bilancio per il Napoli Calcio. Grazie a tutti.